i due cani che lo fanno vabbè alla fine il limonano un po' però l'arrivo ii 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 attacca il palo che il palo sia con te Ma quale è la femmina? Io vorrei che sono tutti i due maschi. Guardali, e c'è una sosta. Anche le soste fanno. Questo è il tempo degli animali per fare i socialismi. Scusate per la pausa. Ecco, pare che il bilancio lo stanno davanti a un uomo. Si stanno molando, stronti. Oh, io non ho fatto più il video. Si sta in quel posto. Bastardo.